Il gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata, nel corso della costante attività di controllo del territorio, ha arrestato in fraganza di reato due cittadini italiani, rispettivamente per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e per evasione. In dettaglio, nel corso di un primo intervento, durante un servizio di perlustrazione da parte del nucleo mobile, una pattuglia di finanziere ha notato un quarantena di bosco reale, già noto in quanto ha sottoposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, che passeggiava tranquillamente nel comune di Torre Annunziata, violando così le prescrizioni del Tribunale di Napoli. Alla vista dei militari, il soggetto si è rifugiato in un bar baricandosi all'interno del bagno. Dopo essere riusciti a farlo uscire, i militari hanno proceduto ad arrestarlo in fraganza di reato. Con la seconda operazione di Baschi Verdi del gruppo di Torre Annunziata e di servizio di vigilanza presso il locale Palazzo di Giustizia, hanno proceduto all'arresto per evasione di un 41enne residente nel Parco Penniniello, nella medesima città o Plontina, che dopo aver presenziato un'undienza che lo riguardava e con la quale era stato disposto il suo rientro e gli arresti domiciliari, si era rifiutato di adempirvi. Lo stesso nei giorni successivi è stato poi destinatario di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare già in atto per i reati di violenza privata, lesioni e distorsione, a seguito della quale è stata disposta la sua custodia in carcere.